eccoci con questo nuovo tutorial su to do ist oggi vediamo un po di altre cose la prima per esempio è quella relativa ai to do completati prendo un progetto a caso per esempio spesa aggiungo qualche elemento quindi elemento a elemento b eccetera e ne spunto qualche d'uno d'accordo a questo punto se voglio individuare quelli che sono i to do spuntati cioè i to do completati devo andare all'interno del progetto quindi spesa ci sono già cliccare su questi tre pallini azione progetto e dire e cliccare sull'ultima voce che mostra attività completate e appunto andrò a trovare con tutta la calma del caso i miei to do completati ecco la ricerca tra i to do completati la visualizzazione di to do completati è una funzione che come vedete qua non funziona benissimo storicamente su to do ist quindi diciamo per dargli un po una smossa aggiornerò la pagina quindi contro l'r oppure clicchiamo su ricarica questa pagina e vediamo se adesso me li mostra ecco qua vedete esattamente questi sono i miei to do completati eccetera elemento b e banane e posso eventualmente anche ripristinarli come deselezionando la spunta d'accordo quindi questa è la maniera in cui to do ist ci mostra i to do completati altra questione come ricercare tra i come ricercare un to do è molto intuitivo si clicca qui sopra su ricerca rapida cerco non avevo le mele cosa avevo le banane ban vedete mi da banane o mi darebbe tutti i to do che contengono ban se vi ci clicco sopra lui mi apre il progetto contenente quel to do e me lo evidenzia anche vi dico già da subito ma lo tratteremo in un video successivo che la ricerca tra i to do completati invece è una funzione solo disponibile in to do ist premium passiamo ora un altro argomento che è quello dei to do indentati ovvero i to do figli possiamo per esempio sempre usare questa lista della spesa voglio dividere la frutta dalla verdura d'accordo e cosa faccio vado ho diversi modi per farlo in più semplice più intuitivo è sicuramente andare a prendere le banane sempre dal mio comando sposta che sono i soliti due colonini da tre pallini e trascino le banane non solo sotto frutta ma spostando il mouse a destra anche dentro frutta vedete ho ottenuto esattamente vedete questo effetto qua ovvero un to do che contiene altri to do banane poi possiamo aggiungere le mele le pere e i kiwi d'accordo e invece sulla verdura maiuscolo invio per fare un to do sotto contro il freccia destra per indentarlo vedete io col contro il freccia destra e freccia sinistra mi sposto dove voglio la verdura può essere l'insalata le carote le cipolle eccetera 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 quindi come funzionano i to do indentati allora attenzione bene se io spunto un to do figlio tipo insalata essendo un to do appunto contenuto in un altro to do vedete non mi scompare rimane nella mia lista chiaro se invece per qualunque ragione vado a spuntare il to do genitore anche se non ho spuntato quelli interni vedete carote cipolle non è spuntato mi scompare tutto spuntati e non spuntati in questo caso devo andarmelo a riprendere mostrando le attività completate e vedete anche qua come dico sempre le attività completate funzionano bene ma non benissimo anche qua vedete che non vedo la struttura genitori figli quindi devo andare a memoria e ripristinare verdura in questa maniera ecco tra l'altro ancora continuo a dire non funziona benissimo non mi ha ripristinato i figli quindi devo pigliarli uno per uno ecco insomma il messaggio che mando anche se non è un corso strategico ma un corso solo operativo su come si usa to do ist non cioè insomma se spuntate le to do non fate troppo affidamento sui to do completati le ricerche eccetera perché non funzionano granché bene in to do ist cioè la roba c'è ma insomma non sempre facilissimo da ritirare fuori come avete visto se io assegno una data a to do padre oggi mi troverò appunto in oggi il to do padre con tutti i figli dentro se invece ecco una cosa che non abbiamo mai visto per tornare al progetto spesa posso anche cliccare direttamente qui senza andare nei progetti che potrei averne molti posso cliccare direttamente qui di finito proprio sulla voce sul nome del suo progetto contenitore se invece tolgo la data di oggi alla frutta e l'assegno solo alle pere quando vado in oggi io vedo vedete solo pere senza il to do genitore quindi spuntando pere come abbiamo visto prima e tornando al progetto spesa me la troverò spuntata qui dentro d'accordo brevissimo discorso per quel che riguarda invece i progetti indentati indentare vuol dire parte che non so se ne neanche sei italiano però tu indent vuol dire mettere all'interno cioè andare una riga sotto e spostarsi un po a destra ecco diciamo tradotto in italiano comunque passiamo a quelli che sono invece i progetti e creo un progetto sotto spesa ok quindi cosa vado a fare clicco i tre pallini sul progetto spesa e gli scrivo aggiungi un progetto sotto come al solito ho due modi anzi tre uno sposto questo cursore due contro freccia destra che mi piace usare oppure vedete usare questi due freccine che ci sono qua e qui potrei direttamente fare due progetti frutta e verdura come ho fatto a creare un progetto sotto sempre maiuscolo invio e lui mi crea un progetto sotto scorciatoio del giorno con contro invio invece creo un progetto sopra ok ecco in questo caso appunto i progetti indentati cioè genitori e figli posso anche andare a fare sotto progetti o sotto to do ancora più indentati uso i progetti per esempio la verdura la potrei distinguere in verdura di stagione e non di stagione attenzione che non di stagione ho dato un filo troppo dentro vediamo no ok perfetto ok quindi qua ho tutta la ramificazione tra virgolette che voglio a questo punto però elimino tutti questi progetti che non mi servono a niente clicco sui tre pallini di fianco al progetto e scelgo l'ultima voce che elimina progetto benissimo per quanto riguarda anche questa lezione questo tutorial di to do isti direi che è tutto e niente come al solito vi invito a cliccare sul prossimo video ciao a tutti